La Chiesa è madre, commitezza e bontà, non un'associazione rigida che alla fine diventa orfana. Lo ha detto Papa Francesco nell'Omelia della Messa del Mattino a casa Santa Marta, alla quale hanno preso parte anche i cardinali del Consiglio dei Nove, riuniti fino a domani con il Papa in Vaticano. Commentando le parole di Gesù sulla croce nel Vangelo di oggi, figlio, ecco la tua madre, il Pontefice ha sottolineato che come la Vergine la Chiesa deve avere quella maternità che si esprime negli atteggiamenti di umiltà, bontà, perdono e tenerezza. La Chiesa è madre, è la nostra Santa Madre Chiesa, che ci genera nel Mattesimo, ci fa crescere nella sua comunità e ha quegli atteggiamenti di maternalità, la mitessa, la bontà. La Madre Maria e la Madre Chiesa sanno carezzare i Suoi figli, danno tenerezza. Pensare la Chiesa senza questa maternalità e pensare a un'associazione rigida, un'associazione senza calore umano, orfana.